Ci sono grandi differenze tra la Terra e Venere, se è pur vero che entrambi questi pianeti possono rientrare nella cosiddetta fascia di abitabilità, la differente atmosfera è unità in misura nella ricerca di una reale similterra. E oggi di differenze se ne aggiunge un'altra, grazie ad un recente studio ottenuto con dati raccolti dalla sonda dell'Agenzia Spaziale Europea Venus Express. Nella ionosfera di Venere, lo stato elettricamente carico dell'atmosfera venusiana, vi sono infatti una serie di buchi giganti, tanto da far ritenere che l'ambiente magnetico del nostro vicino pianeta sia assai più complicato del previsto. Tutto ebbe inizio nel 1978, quando la sonda Pioneer Venus Orbiter trovò il primo buco. Sono passati però 30 anni prima che ne avessimo nuovamente evidenza. Per capire quanto sta accadendo alla ionosfera del pianeta Venere, è necessario ricordare l'influenza del vento solare, del plasma emesso dalla nostra stella, che trasporta una parte del suo campo magnetico. Mentre la Terra ha un suo campo magnetico che la protegge, Venere non ne dispone, quindi è più soggetto a questo vento solare. La sua ionosfera, particolarmente carica, però interagisce con il plasma, creando una sorta di ingorgo che produce un mini campo magnetico. Venus Express è stato in grado di misurare questa sottile magnetosfera, che le ha permesso di riscontrare questi buchi canali che nell'atmosfera venusiana convoiono il campo magnetico prodotto dal plasma solare verso il suo nucleo roccioso, grazie proprio alla conduzione elettrica dovuta alla ionosfera venusiana.